Ciao, sono Luca di Mister Gadget e oggi vorrei tornare entrando un po' più nel profondo in un confronto tra due dispositivi che competono nella stessa categoria. Da una parte ho in mano il nuovo Motorola Razor, dall'altro invece un altro prodotto che compete nella categoria degli schemi pieghevoli, ovvero il Galaxy Z Flip. Quale di questi due prodotti è il migliore? Cerchiamo di vederli passo passo, uno accanto all'altro. Se un anno fa qualcuno vi avesse detto che vi sareste trovati davanti a due oggetti di questo genere, cioè due smartphone con la disponibilità di uno schermo pieghevole, con la riedizione di un modello eccezionale come il Razor, oppure con un dispositivo di una bellezza significativa come lo Z Flip, probabilmente insomma avreste chiamato la Neuro. Invece questi due prodotti oggi sono uno accanto all'altro, sono anche nei negozi disponibili alla vendita, entrambi non facilissimi da trovare, ma insomma esprimono due modi diversi di concepire telefoni con lo schermo pieghevole. Allora io voglio provare a mettere uno di fronte all'altro questi due prodotti per cercare di capire in quali aspetti e dettagli eccelle uno e invece in quali l'altro. Allora parto subito dal display, guardate lascio che si spenga questo Motorola per mostrarvi essenzialmente le alterazioni del display. vedete ci sono queste righe, ecco così le vediamo molto bene, ci sono queste righe che vengono fatte sul display che sono veramente particolari, sono le righe che sono generate dal meccanismo di chiusura. Essenzialmente il meccanismo di chiusura richiama all'indietro il display e poi quando il telefono si chiude vedete non c'è praticamente fessura nel telefono, viene mantenuta la chiusura con una aderenza totale delle due parti del telefono. Se invece si prende il flip di Samsung, vedete quando si chiude il telefono il movimento invece è leggermente diverso della cerniera e il risultato è che il telefono non si chiude perfettamente. Vedete c'è una sorta di fessura tra le due parti del telefono che poi ovviamente si chiude nella parte frontale. Questo causa ad esempio una piega molto più percepibile, molto più evidente quando passate il dito sul display. Però c'è anche un altro aspetto da sottolineare perché Motorola invece ha una deformazione in questo punto, una deformazione nella parte alta e alcuni punti dove il display è come se facesse dei piccoli avvallamenti ma perché alle spalle di questo schermo molto 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 flessibile c'è un meccanismo che serve per la chiusura. Questo diciamo che è una delle ragioni per cui anche a livello tattile il display di Motorola sembra molto più diciamo flessibile, un po' più delicato rispetto invece a quello di Z Flip che in qualunque momento quando lo si tocca appare chiaramente molto più solido. Altro elemento importante Z Flip dà la possibilità di avere l'apertura dello schermo in qualunque posizione lo si voglia utilizzare. Vedete le angolazioni praticamente della cerniera sono pressoché infinite mentre Motorola ha una posizione che torna indietro esattamente come lo facevo una volta in qualunque punto lo si molli lui tende a tornare indietro a meno che si superi la metà e si arrivi a bloccare il telefono. Quindi dal punto di vista della meccanica che è stata creata trovo che Z Flip complice forse anche la quantità di mesi a disposizione di Samsung per lo sviluppo e anche l'esperienza con lo Z Fold sia di gran lunga migliore. Le specifiche tecniche non serve neanche dirlo, batteria più grande nello Z Flip, processore migliore, più RAM, fotocamere con qualità migliore, quindi sulle specifiche tecniche credo che non ci sia assolutamente battaglia. Poi c'è un altro elemento dello Z Flip che secondo me è migliore non avere questa specie di grosso mento in cui è inserito il sensore delle impronte digitali, probabilmente ci sono altre parti tecnologiche del telefono che essenzialmente lo rendono un po' meno fruibile. Z Flip invece ha una caratteristica tale per cui il telefono si utilizza intanto come detto anche piegandolo a metà e poi c'è proprio il fatto che non ha cornice così visibile. C'è una cosa curiosa, ci sono queste parti in gomma che non sono proprio meravigliose, che servono per essenzialmente far appoggiare la parte superiore del telefono a quella inferiore quando lo si chiude, sono curioso di vedere nel lungo periodo che cosa succederà, però in linea di massimo diciamo che questa gestione del telefono con questa forma è un po' più gradevole. Quindi anche forse sul display nel complesso direi che il vincitore è Z Flip e anche come aspetto generale. Certo, aspetto generale però c'è un'altra caratteristica. A telefono chiuso il Motorola Razor secondo me è molto bello, molto più bello dello Z Flip che sembra un po' un porta cipria chiuso, in questo momento non ha grandissima personalità, mentre molta personalità bello da vedere, tutto sommato originale anche nelle forme, è il Motorola Razor. Ripeto, l'unica differenza tra i due è la sensazione di solidità estrema che trasmette il Flip, mentre il Razor dà sempre un po' un'idea di fragilità, anche quando lo si apre al 100%, vedete non è perfettamente dritto il Razor e anche quando si parla al telefono mettendo il telefono all'orecchio si ha sempre un po' una percezione di debolezza strutturale, quantomeno di delicatezza più che di debolezza, mentre vedete che il prodotto che presenta Samsung, tanto si apre proprio completamente, anche nella parte posteriore la cerniera, vedete che va a combaciare totalmente, cosa che non succede invece è proprio un po' diverso il principio del Razor. Per quanto riguarda poi le fotocamere, credo che non ci sia molto da dire, quella di Samsung è estremamente di gran lunga migliore, entrambi i telefoni permettono tra l'altro di fare una cosa, di usare la fotocamera principale per scattare una fotografia. Voi ad esempio nel caso del Flip, basta che schiacciate due volte il pulsante d'accensione e poi potete utilizzare l'otturatore per scattare la foto. Certo, quello che è il limite molto forte è che lo schermino qui è veramente piccolo, piccolo, piccolo. Potete fare la stessa cosa con Motorola, in questo caso non dovete schiacciare niente, vediamo se ce la faccio, dovete semplicemente shakerare il telefono e a quel punto vedete il sensore principale vi permette di girare un video o di scattare una foto con le funzionalità che conosciamo bene di Motorola e da questo punto di vista secondo me Motorola è di gran lunga migliore come esperienza. Peccato che la fotocamera non sia veramente granché. Non è granché la fotocamera esterna, ma non lo è neanche la fotocamera principale interna che onestamente lascia proprio un po' a desiderare, non è esattamente il massimo. Quindi su fronte della fotocamera bisogna dire che sui due prodotti dal punto di vista sia del scatto da chiuso che dello scatto con il selfie cam trovo superiore lo Z Flip. Batteria, batteria diciamo che tutto sommato si equivalgono pur avendo una batteria molto più capace lo Z Flip rispetto al Motorola però l'esperienza poi quotidiana devo dire che è molto simile. Quello che cambia molto è l'esperienza invece con lo schermo esterno. Voi avete la possibilità di fare delle piccole cose, vediamo se riesco a premere sul punto giusto. Vedete, avete comunque la possibilità di agire sulle notifiche che avete sul display e eventualmente rispondere anche al telefono, ma nulla a che vedere invece con l'esperienza di Motorola che invece in questo caso permette addirittura anche una interazione da un certo punto di vista con alcuni dei vostri contenuti, quindi quando voi scorrete verso l'alto adesso ce la farò, scorrete verso l'alto vedete essenzialmente scorrendo verso l'alto poi potete accedere ad una forma di interazione anche con la vostra email e nel caso di messaggi Whatsapp vedete in questo caso poi dovete aprire per continuare, però potete eliminare ad esempio i messaggi leggerli tutti fino in fondo, quindi insomma avete una serie di opzioni superiori quando tra l'altro arrivano dei messaggi Whatsapp potete rispondere anche con la voce quindi da questo punto di vista Motorola è sicuramente migliore. Molti di voi mi chiedevano se si possa rispondere alle chiamate anche da chiuso se il telefono è collegato ad un auricolare va agli auricolari oppure potete rispondere semplicemente in viva voce, quindi questa è un'esperienza tutto sommato secondo me carina. Nel complesso per quanto riguarda l'esperienza d'uso dei due telefoni io devo dire che trovo che entrambi abbiano una certa debolezza che ho trovato nel giro di questi giorni quella cioè che alla fine aprire tutte le volte il telefono è comunque penalizzante nell'utilizzo del vostro smartphone cioè noi siamo legati ad un'idea di eredità dal passato con il telefono che aprivamo e chiudevamo ma solo per rispondere alle chiamate non c'erano le applicazioni allora diciamo che l'idea di dover tutte le volte aprire il telefono qualunque cosa si voglia fare secondo me è un po' penalizzante. Sul fronte tra l'altro della qualità invece proprio del display a prescindere dall'esperienza d'uso devo dire che la qualità del bianco, alcuni dettagli di Samsung secondo me sono superiori. Mi piace molto l'interfaccia One UI qui nella versione 2.1 Motorola ha scelto invece la strada di un'interfaccia praticamente simile alla stock con la sola aggiunta del moto display e di alcune azioni con le gestures però insomma diciamo che il software di Samsung è sicuramente più completo non si coglie molto nelle riprese ma tende a virare un po' al giallo il telefono di Motorola quando lo si piega. Nel complesso trovo che la qualità del display di Samsung anche proprio come leggibilità, come attendibilità dei colori sia superiore. Insomma, due modi diversi di interpretare il telefono con lo schermo pieghevole ripeto ancora un aspetto importante è il fatto che qui si possa scegliere qualunque angolo di apertura invece qui o aperto o chiuso o non c'è nient'altro da fare. Due prodotti carini però, però, però. Avete visto dunque due telefoni che hanno molti pregi, qualche difetto e probabilmente delle differenze fondamentali che fanno uno dei due più competitivo rispetto all'altro. Ma, insomma, non voglio essere io ad esprimere un giudizio definitivo mi piacerebbe conoscere il vostro. Quale dei due preferite? Grazie a tutti.